...vista della Ferrari, 1.55, vedete già più veloce i carattoni che ha portato... ...resultati... ...conosce anche Luca... ...per la terza posizione... ...non... ...a prestamenta... ...durta... 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 ...quaduno, 48, 7, 9, 3, giro, record nella gara... ...Loreggio Conte Ferri è secondo... ... 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 Grazie Grazie